Allora, ho ben presente l'importanza delle api e dell'impollinazione sui nostri territori e mi voglio permettere, vista l'ora, la stanchezza e visto anche che a differenza di molti dei presenti, seguo un po' ormai da bordo campo la vicenda politica, un intervento di carattere più sentimentale. Credo di poter dire, appunto da questa mia posizione marginale, a voce alta ciò che molti di voi tuttora sussurrono, e cioè che non è che ci fidiamo fino in fondo del progetto di Matteo Renzi. Certo, dovendo guardarci all'indietro, pensiamo, credo con buon senso, che sia stata una perdita di tempo e un errore politico, la vittoria di Bersani alle primarie del novembre 2012, forse affrontando le elezioni politiche dell'anno scorso con il candidato premier Matteo Renzi sarebbero andate diversamente, ma ciò non impedisce, come dire, un atteggiamento anche ancora interrogativo. Siamo di fronte a un enigma e mi ha rassicurato, anche a me, l'ha citato Orfini, sentire il vice segretario del partito dire a voce alta una cosa che io avrei detto pensando ecco è la dimostrazione del fatto che sei anacronistico, inattuale come l'aggettivo che ha usato Vendola, misurandosi con il discorso pubblico di Renzi, e cioè il fatto che non abbiamo capito ancora bene chi ci ha votato. Se poi penso in particolare alla città di Milano dove abito, dove abbiamo sfiorato la maggioranza assoluta, non credo francamente che si possa parlare di blocco sociale, credo certamente che esista un elemento di mobilità e di volatilità impressionante di cui tener conto, ma anche delle esigenze. Allora su queste vorrei entrare velocissimo, fare una carrellata molto rapida, cito due vecchi, una la citerò alla fine. Venendo qui sul metro ho incontrato il vecchio Ibio Paolucci, quanti di voi milanesi almeno se lo ricordano, questo grande cronista dell'unità, ha passato gli 80, traballò un po', anche lui mi ha detto questo Renzi non è che mi piaccia tanto, e poi mi raccontava, come mi ha fatto altre volte quando ci vediamo, noi abbiamo litigato molto ma volendoci bene, restando uniti, a questo proposito del litigare restando uniti, in fondo se ne faccio in tempo voglio dirvi una parola su Bianca Guidetti Serra, ma questo dopo. E mi raccontava appunto di quanto seriamente il Corriere della Sera, quando lui era il pilastro della cronaca giudiziaria milanese dell'unità, gli chiedesse di andare a fare l'inviato per il più grande quotidiano italiano e lui aveva scelto di no, come scelta di vita, che doveva restare dentro a questo suo mondo. Lo dico pensando a come ci mescoliamo, a come sono diverse scelte di vita, a cominciare dalla mia, quando prima Barbara Pollastrini, poi Gianni Cooper, lo citano l'importanza degli editoriali di Guido Rossi, che parla del capitalismo che distrugge i diritti umani sul giornale di proprietà della Confindustria, e con la biografia rispettabilissima di un Guido Rossi, ti viene in mente di quanto è strano l'amalgama di questo nostro paese. Io stesso sono, come dire, un'evidente prova di queste contraddizioni, di somme di privilegio che guarda alla predicazione dell'eguaglianza e della redistribuzione, ma proprio qui io vedo gli elementi di debolezza con i quali noi dovremmo fare i conti. Ok, il 40,8%, ma io voglio essere l'antipatico che cita in questa sede il momento peggiore della leadership di Matteo Renzi nel corso dei suoi mesi di governo. Sto parlando della scera del 3 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, quando plasticamente si raffigurò da una parte Gianni a Carogna e le autorità dello Stato, le forze dell'ordine che andavano a discutere con lui, mentre nella tribuna d'onore, quel luogo orrendo della simbologia della stratificazione sociale in Italia, che continua a essere la tribuna d'onore degli stadi di calcio, i vertici delle nostre istituzioni assistevano impotenti perché c'era un pezzo di società che sfugge al controllo e alla disciplina dello Stato, che spadroneggia, che rappresenta un punto di riferimento per un mondo giovanile che per metà è disoccupato e che vive condizioni anche di disperazione e miseria culturale. E mi ha fatto paura, lo dico con tutta la pietà e il rispetto, anche la giornata di ieri, quel funerale di Scampia, dove di nuovo secondo me appariva evidente che esiste un'altra Italia rispetto alla quale sono passati due mesi da quel 3 maggio, cosa ha potuto fare, cosa ha saputo fare lo Stato di fronte a questo fenomeno che definiamo delle tifoserie organizzate o della violenza nel calcio, ma è che è qualcosa di molto più profondo. Dobbiamo ricordarcelo perché ha a che fare anche con il fatto banale che il 40,8% dei voti deve tenere conto delle percentuali di quelli che non sono andati a votare, oltre che delle percentuali di quelli che non lavorano e che si sentono tagliati fuori in questo Paese. Ma ci sono fenomeni che riguardano la nostra funzione di partito, sui quali credo occorra tenere l'occhio lucido senza alternare, come mi è parso, scusate se ve lo dico di cogliere anche in alcuni dei vostri interventi, a forme di pessimismo quasi catastrofico, a forme di trionfalismo legate a un risultato elettorale e al fatto che abbiamo vinto dappertutto nelle amministrative. Guardate che se applaudite l'intervento di Carlin Petrini dovete prenderne sul serio l'assunto iniziale. Intanto vorrei ricordarvi che Carlin Petrini su iniziativa di Romano Prodi fu chiamato come alcuni altri cani sciolti che non appartenevano a nessuno dei partiti di appartenenza di origine fu chiamato nel comitato promotore dei 41 che doveva fondare il partito democratico. C'era Tuli Azevi, molto immodestamente c'ero anch'io e ne sono molto lieto, lo considero un fatto importante perché credevo molto nella nascita del partito democratico avvenuta con dieci anni di ritardo. Carlin, adesso non voglio violare la tua confidencia, credo che se ne vanti meno, è meno contento, considera meno importante di essere stato un fondatore del partito democratico, ma per il partito democratico invece non avere tenuto nel debito conto in questi anni, non avere dato lo spazio che meritava a una persona tra quelle che lo hanno fondato come Carlin Petrini, io credo che sia una riflessione, dobbiamo chiederci il perché. La risposta la trovo molto semplicemente nell'assunto dell'intervento di Carlin che dice ma di quale crescita mi volete venire parlando? Ma davvero qualcuno di voi seriamente pensa che ci sarà nei prossimi anni una crescita? E se davvero è desiderabile? E quali forme dovrà eventualmente assumere la crescita dentro a una crisi entropica? Ora, se lo prendete alla lettera e non lo applaudite mettendolo di lato così, allora considererete diversamente il problema di un grande partito, che è anche una grande comunità, che ha preso tutti i voti che sappiamo, il quale si troverà, si sta già trovando, per giunta da posizioni di governo, per fortuna, e tutte le cose che ho detto su Renzi prima hanno senso soltanto se ci aggiungo che trarne la conseguenza di mettersi sulla riva ad aspettare che Renzi inciampi, scommettendo sul fatto che prima o poi si sgonfia e per poi dire io lo avevo detto, è la peggiore, è il peggiore degli atteggiamenti naturalmente. La posizione dell'anti-Renziano, lo dico anche avendola che qui non c'è, è molto comoda oggi, è furba, ma non tiene conto di che cosa succederebbe all'Italia se l'esperimento Renzi andasse a catafascio, come può andare a catafascio, di quale spazio a una destra che oggi solo per un'illusione ottica non si vede, questo aprirebbe, ma ciò detto e ricordate delle cifre che fanno paura, come quella che ha ricordato Barbara all'inizio, che era sulla prima pagina dell'unità di oggi, 30.000 bambini poveri solo nella città di Roma, ci sono altri dati che hanno a che fare con la non crescita, con la gestione di un lungo periodo di penuria nel corso del quale il problema è che il ridimensionamento e il declino dell'economia e della società italiana avvengano nella forma meno dolorosa possibile, perché visto che non siamo in campagna elettorale possiamo dirci che questo è il compito oggi di una classe dirigente, fare in modo di accompagnare la penuria, la non crescita, il declino nelle forme meno dolorose possibili, parlavi della lotta contro la sofferenza, no? E allora il segnale più significativo di oggi, prevedibile, guardate, ma è quello per cui gli 80 euro dello sgravio IRPEF non hanno avuto una immediata ripercussione nei consumi, era largamente prevedibile, ci vuole del tempo, ma la spiegazione che non ci diciamo abbastanza e che crea un problema politico enorme è che questo parziale recupero di liquidità sul reddito da lavoro dipendente avviene in una fase nella quale è generalizzata e molto più vasta la decurtazione delle buste paga, cioè attraverso milioni di contratti di solidarietà, attraverso sotterfugi che arrivano addirittura al fatto che ti arrivano delle buste paga con una cifra titolare e poi dopo ne devi restituire una parte al tuo datore di lavoro, ma è ormai percezione diffusa che da alcuni anni calano le buste paga, calano i redditi da lavoro dipendente, questa è solo una parziale compensazione. Intervenire su questo dato significa intrecciarsi con tematiche di mutuo soccorso, cooperazione, sostegno alle persone in difficoltà che richiedono una forma organizzata, delle forme organizzate plurali che non possono essere solo il partito del leader. Io continuo a credere nella forte necessità di un grande partito unitario della sinistra italiana e quindi considero prezioso il partito democratico come fusione di culture riformiste diverse proprio perché ritengo che il partito del capo, dell'uomo solo al comando, non sia in grado dentro a queste lacerazioni a cui ho accennato di gestire alcunché e che più questo partito conserva, e non è facile, la sua natura democratica, i suoi meccanismi democratici che sono l'elemento della sua forza, le primarie ma non solo, e più conserva la sua dimensione comunitaria e più abbiamo delle chance di essere dentro al fronteggiare una situazione di difficoltà per strati crescenti della popolazione italiana. A questo proposito, scusate adesso corro ancora più veloce, ma devo aggiungere una carenza che io credo noi come anche sinistra del partito democratico dobbiamo denunciare. L'altro giorno me l'ha riassunta con buona sintesi il mio amico Enrico De Aglio che vivendo ormai sei mesi all'anno in California ci guarda da lontano e mi ha detto guarda i due dati che maggiormente preoccupano dell'Italia sono da una parte l'invecchiamento della popolazione e dall'altra la retratezza della legislazione per integrare gli immigrati. Non ci sono altri paesi occidentali che fanno così fatica ad approntare normative di integrazione e sommare questi due elementi, sommare questo ritardo clamoroso che noi continuiamo a avere sul terreno dell'immigrazione, dell'accoglienza all'invecchiamento medio della popolazione ci dice il declino che si vede da lontano, che si vede da fuori. Ebbene me lo lasciate dire che a me non è piaciuto il modo in cui tutto sommato alla chetichella si è liquidata la figura di Cecil Chiang, così come si ridimensiona una funzione preziosa che la stessa presidente della Camera Laura Boldrini per la sua biografia passata avrebbe potuto svolgere. Temo cioè che in questa vocazione maggioritaria nella quale si tende a edulcorare qualsiasi questione divisiva quelle che urtano, spigolose, che dividono l'opinione pubblica rischiamo di fare dei brutti passi indietro. Se non sbaglio era tra gli impegni assunti immediatamente, ad esempio quello dello Ius Soli della cittadinanza per i bambini stranieri nati da genitori residenti in Italia. Si rinviano e si nascondono le figure scomode? Ecco, noi secondo me se vogliamo essere utili dentro al Partito Democratico dobbiamo fare esattamente il contrario. A questo proposito è l'ultima cosa che vi dico, anche se forse è la più sgradevole, credo che sia questa area del Partito Democratico quella che dovrebbe pubblicamente e senza reticenze sviluppare una riflessione non di tipo giudiziario ma di tipo politico sulle malversazioni emerse in diverse città del nostro paese e anche di recente. In questa stessa stanza, mi ricordo che due anni fa esprimendo a Bersani il mio appoggio alla sua candidatura alle primarie, gli dissi guarda che in questa città tu dovresti parlarci non di Filippo Penati che è una bravissima persona io penso personalmente e ne sono convinto ma del sistema, della cultura, della logica del rapporto fra politica e affari per cui di nuovo dentro alla penuria, dentro alla crisi, dentro alla recessione bisogna che anche noi proteggiamo i nostri, bisogna che anche se in Lombardia comanda la destra ci sia uno spazio, una fetta della torta che va anche al movimento cooperativo, vorrete mica che quel fior di aziende che sono le cooperative emiliane non lavorino nella regione più ricca d'Italia. Così ho visto, guardate, ripetersi la vicenda nell'Expo, primo Greganti, Manutencop, vogliamo fare tutti i nomi, ma l'ho vista ripetersi a Genova, io ci sono andato per Repubblica a Genova e a Venezia e ho visto come in queste città soggetti economici divenuti ormai completamente autonomi dalle logiche della politica ma che hanno a che fare con la nostra storia siano divenuti oggettivi elementi di conservazione, erano quelli che dentro alla Carige sostenevano Berneschi fino in fondo e votavano contro le sue dimissioni. Uomini iscritti al PC dall'immediato dopoguerra, uomini che hanno fondato gloriose cooperative che difendevano Berneschi perché è la banca di territorio e abbiamo visto nuovi primi Greganti apparire a fiorare dentro alla vicenda del Mose doveppure si trattava di ritagliare uno spazio. Ecco, io l'ho detto tante volte, l'ho scritto anche a Gianni Cooper, lo credo che l'errore politico che lui ha compiuto nella campagna delle primarie sia per eccesso di senso della lealtà rispetto alla sua storia, di non fare un'analisi che non voleva essere colpevolizzante né di tipo giudiziaria ma di come sia venuto a esaurimento questa concezione del rapporto della politica come protettorato di soggetti economici che peraltro nel frattempo, insisto nel dirlo, si sono molto autonomizzati e che non sono facilmente distinguibili da imprese private di altro tipo. Anche qui credo che possiamo dare un contributo, ho notato una certa sbrigatività nel combinare e proclamare d'aspo, nel mettere in campo commissari straordinari e magistrati ma questi sono conti che riguardano la nostra storia politica e il nostro partito e dobbiamo farli insieme. Ho finito dimenticando probabilmente un mucchio di altre cose ma vi avevo detto che volevo spendere una parola su Bianca Guidetti Serra perché, non perché anche in questa sede voglio ricordare una grande donna italiana ma perché mi ha colpito l'altro ieri al suo funerale la capacità oggettiva di figure come la sua, la donna che è diventata antifascista per sua personale indignazione contro le leggi razziali nel 1938, che diventa partigiana, che poi diventa l'avvocato degli operai che vengono addirittura incarcerati quando lottano per difendere il posto di lavoro, che diventa l'avvocato delle cause perse le più disperate comprese quelle dei brigatisti irriducibili e al suo funerale c'erano insieme Piero Fassino e i Notav e nessuno ha urlato e nessuno si è accapigliato, cioè ci sono figure che tengono insieme i nostri mondi, il nostro mondo, lo dico anche pensando al travaglio che stanno vivendo Gennaro Migliore ed altri, io sono convinto che sia stato, Curzio, dopo interverrai anche tu, Curzio Maltese, ricordo benissimo che all'indomani della sconfitta politica del febbraio 2013 scrisse il commento su Repubblico nel quale diceva, qui Bersani ha sbagliato, tutto è evidente che da domani tocca a Matteo Renzi. Poi Curzio è stato fra i promotori di una lista alternativa a Matteo Renzi. Ecco io credo che oggi questo genere di separazioni non ci aiutino e sono convinto che lavoreremo ancora insieme.